Antonino Sanfilippo, gocce del Globisernia, una gara ostica già sulla carta. Sì, sapevamo che sarebbe stata una gara particolarmente complessa per l'intensità, la forza fisica e la capacità tecnica dei giocatori di Monte Granaro. Abbiamo provato a fare la migliore gara possibile e oggi siamo questi. Come cercherai di preparare i tuoi ragazzi per la prossima a Rimini? Cercando di allenarci al massimo, cercando di tirare fuori intensità, se ce l'hanno, dubito che qualcuno di loro abbia un livello di intensità adeguato in questo momento. Vedremo di far giocare chi si dimostra più pronto a giocare gare vere e chi non è pronto sta seduto. Cos'hai da rifinire in allenamento? Sarebbero da rifinire duemila cose, però bisogna fare il massimo con quello che oggi siamo, cercando di capire che secondo me la Serie B è un premio per molti di loro. E' chiaro, le difficoltà sono enormi ogni domenica, siamo una squadra di ragazzi molto giovani, abbiamo fatto fin troppo forse fino a questo momento, adesso nessuno ci sottovaluta più, nessuno ci risparmia. Il cammino per la salvezza è ancora lungo, ma ci sono tantissime possibilità. Sì, ma voglio dire, è un cammino che tra l'altro dipende anche molto dagli avversari, ci sono squadre che si sono notevolmente rinforzate, noi dobbiamo cercare di essere migliori di quello che siamo il giorno prima, cercando di capire però che abbiamo anche dei limiti, perché secondo me alla fine conoscere i propri limiti è un punto di forza in alcune partite e stasera siamo stati bravi attratti a farlo. Grazie. Grazie.